Buongiorno a tutti, sono nervoso oggi, veramente, perché noi diciamo le cose ma nessuno ti sente, o meglio continuano a fare nuovamente quello che vogliono, io faccio un altro appello, visto che tra il serio e il faceto lo faccio serio, anche se sei tu la persona seria, è lui la persona, il faceto sono io, Nina e Papa tra il serio e il faceto, oggi è giovedì, ieri avevamo parlato dei sacchetti buttati nei laghi di Gansirri, oggi parleremo di questo, via con la foto, ecco ora dico io, benedetto Dio, ma non l'hanno buttato, l'hanno poggiato, ce l'avevo messo la cosa per la mano, e gli ha scivolato, ah gli è scivolato, si è scivolato, oh i mani ci ha visti da cadere, si ci ha visti da cadere i mani, quei due sacchetti, perché sono, si vede che sono due, sono messi lì, e dico vi buttaste da casa, li avete buttate là, perché mai fate questo, c'è la differenziata, l'opportunità di buttarli poi, il giorno dell'indifferenziata, perché sporcate, quello è un posto molto vicino al piano San Martino, perché fate queste cose, uscite da casa con i sacchetti e li buttate fuori nella strada, ti sembra una cosa giusta, dici qualcosa tu, è meglio di no, come è meglio di no, è meglio di no, no vero, già l'ho detto io che sono incavolato nero, avremmo la città più bella del mondo, e invece per questo, ma hai ragione, abbiamo la città più bella del mondo, e noi rendiamo la città più bella del mondo, la più sporca, la più, succedono queste cose che sono stupitaggini rispetto all'immensità della vita, ti piace questo discorso? bellissimo, non si può dire quella, no, la parola che vuoi dire tu, no, non si può dire, per cui, c'erano queste cuffie che mi andavano a sbattere qua, nella panza, mia panza, ecco io dico la verità, nella panza, ho tolto le cuffie e così le abbiamo sistemate qua, per cui fai vedere di nuovo quella foto, guardatela, quello è un posteggio di auto, no, la c'è le strisce blu, c'è anche il numero, vedi c'è anche il numero? si però qualcuno, ripeto, che se è partito da casa con questi due sacchetti, vado pofudo, e le ha buttate là, ora, sicuramente li raccoglieranno, messi in servizi, questo va in giro, ma non potete dare tutto sto lavoro inutile, conservatela voi, mettetela nel balcone, come facciamo tutti, tutti, perché l'indifferenziata si raccoglie un giorno da te, e la quando non c'è gli altri giorni si raccoglie, si chiude e non si, se c'è tutto, ma la c'è tutto qua, la tutto c'è, l'indifferenziata, melo, plastica, ha ragione, c'è tutto in quei due sacchetti, tutto, basta aprirlo e trovi quello che ti serve, si, giraviti, marco, tutto, non c'è bisogno di aspettare la settimana, tutto subito, tutto subito, quello è il sacchetto tutto subito, ma è meglio che non diciamo niente, perché se no, ma se io lo dovessi pizzicare, e qualcuno che fa queste cose, io gli faccio la fotografia, poi sono finito, si, sto attento, perché poi, questi sono tipi, un po', io ne ho trovato uno, l'hai trovato uno, ma mi ha detto, ma me ne ho trovato uno, ah, ti ha detto, ma perché non ti fai, ma lui ti ha visto quanto sei, appunto, è meno male, è meno male, comunque, vi raccomando, un po' di attenzione per questa nostra città, Nino e Pappa, tra il serio e il faceto, vi salutano e vi abbracciano a tutti, sacchetti compresi, ciao! Viva la sua vanità e tutto ciò che ognuno ha, la superficialità, quante cose che non sa, bella è quella gloria, nel posto di una storia, mentre il mondo rotola, tra l'allero e bla bla bla, Viva chi non ha pietà, perché non prova povertà, bella è la rivincita, se davvero vendica, beato è chi non ruba e poi, piange solo dei suoi guai, chi non si fa scrupoli e chi non muore mai Beato è chi ha un outfit, da mille euro per i lunedì, per gli altri dì, c'è un smoking free, non so c'è a me, because così, beato è chi, in gallerie, a cento selfie per la bella vie, per le vacanze e la tela vie, we bon voyage, we mon ami Viva chi non recita, perché non ha una maschera, chi non fa la replica, vive senza collera, c'è chi non ha una regola, ma segue una sua logica, che pian piano sgretola questa bella umanità Chi si è chiuso in un rancore, chi non sa come mentire, poi si lascia sprofondare, ma fa in tempo a fuggire, chi si salva per errore, chi non vuole più morire, chi non sa che cosa fare, o che cosa dire Beato è chi ha un outfit, da mille euro per i lunedì, per gli altri dì, c'è un smoking free, non so c'è a me, because così, beato è chi, in gallerie, a cento selfie per la bella vie, per le vacanze e la tela vie, we mon ami, lui se la vie Per fortuna c'è Marie, c'è Marie che mi spensiera, se non fosse per Marie, io starei già in galera, per fortuna c'è Marie, c'è Marie per ogni sera ed ogni giorno fa così, solo lei con me è sincera Per fortuna c'è Marie, c'è Marie che mi spensiera, se non fosse per Marie, io starei già in galera, per fortuna c'è Marie, c'è Marie per ogni sera ed ogni giorno fa così, solo lei con me è sincera Grazie